Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla Sala San Francesco, ci stiamo spostando, andiamo verso la cella numero uno, perché abbiamo tra le mani una mail. Suor Cristina, una suora della famiglia dei Paolini, che ci ha chiesto di ricordare un bellissimo incontro tra Padre Pio e il beato Giacomo Alberione. Non sappiamo se ci sono stati altri incontri tra i due, ma di quell'incontro ne abbiamo traccia. Ne abbiamo traccia perché c'è una bella foto, innanzitutto, ed è una foto che risale al 3 maggio del 1965. Stiamo parlando di due santi, anche se Don Giacomo Alberione è beato, ma è un grande santo, era un sacerdote che è vissuto nella stessa epoca di Padre Pio, Padre Pio 1887-1968, ci ricorda Sor Giulia, e Don Giacomo Alberione dal 1884 al 71, nel novembre del 71 venne a mancare. Ecco, due grandi santi vissuti nello stesso periodo, occupati intensamente in due diverse forme di apostolato che ebbero però modo di incontrarsi. Non sappiamo quante volte si sono incontrati, ma è conosciuto questo incontro, di cui la rivista della Casa Sogliavo della Sofferenza subito annotò nel mese di maggio del 1965 con questa bella foto e con questa didascalia. Don Giacomo Alberione, fondatore della Pia Società San Paolo, che tanto bene diffonde nel mondo, si è incontrato con Padre Pio il 3 maggio scorso, l'illustre Pio sacerdote si è intrattenuto con Padre Pio in una saletta del convento. Nessuno però ha mai chiarito il perché, che cosa effettivamente queste due grandi figure della spiritualità contemporanea si dissero in quella circostanza. Esiste tuttavia, e dobbiamo dire questo, esiste un testimone oculare. Esisteva, parliamo di Padre Luigi Giannilli, un frate cappuccino della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio che è venuto a mancare, ma ha lasciato a tutti noi questa testimonianza, anche se di quel lunedì 3 maggio del 1965 c'è uno scritto dell'allora Madre Generale delle Suore Pie Discepole del Divin Maestro Via Verità e Vita, dal 47 all'81, Sor Maria Lucia Ricci, che raccontò che nel 1965 ricevette una lettera, una lettera da parte di Padre Angelico di Alessandria, un cappuccino, che fu un visitatore apostolico nel 46 della loro congregazione. Ecco, in questa lettera fu proprio Padre Angelico che chiese di rivolgere delle preghiere a Don Alberione e di recarsi da Padre Pio per alcune comunicazioni. Ecco, si parla solo di comunicazioni. Tra l'altro scrive Sor Maria Lucia nella lettera, non osavo esporre direttamente la proposta e inviai direttamente la lettera, quindi la inoltre a Don Alberione. Quindi, dopo qualche giorno, assoluto silenzio da parte di Don Alberione, Don Alberione si mette in macchina col suo autista e viene qui a San Giovanni Rotondo. Anche lo stesso autista, subito dopo, Don Alberione gli disse dobbiamo andare a Foggia a parlare con Padre Angelico, ma non gli parlò di Padre Pio da Pietrelcina. Andarono in convento dell'Immacolata dove alloggiava Padre Angelico, il guardiano dell'Immacolata era proprio Padre Luigi Ciannilli e insieme a Padre Angelico e Don Alberione, quindi l'autista, arrivarono qui a San Giovanni Rotondo. Padre Luigi Ciannilli racconta che quel giorno Don Alberione in macchina era in silenzio assoluto, non disse neanche una parola, anche se lui chiedeva qualcosa, ma nulla. A pranzo non toccò nulla, non mangiò, era pensieroso. Quindi salì qui da Padre Pio, quindi siamo accanto alla cella numero uno, racconta Padre Luigi che lo accompagnò insieme al guardiano e insieme allo stesso Padre Angelico, che nel momento in cui Padre Pio era seduto su una sedia, come vediamo da questa fotografia, Don Alberione si stava avvicinando per baciargli la mano, Padre Pio ritrae immediatamente la mano e lo fa sedere accanto a lui. Poi i due restarono soli. Che cosa si raccontarono? Beh questa è anche la domanda che si è sempre posto Padre Luigi Ciannilli, cosa si sono raccontati i due? Beh possiamo immaginare in quel periodo la provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio c'era una volontà precisa che doveva essere soppressa, doveva essere smembrata, gli studenti cappuccini andavano a studiare in altre province religiose, quindi Padre Pio era molto legato alla sua provincia e non voleva tutto questo, poi tra l'altro la vedeva come una sua causa principale, per lui stava accadendo tutto questo. Don Alberione era molto legato al Papa, Papa Paolo VI, chissà forse qualche comunicazione da parte di Padre Pio, oppure lo stesso Don Alberione che voleva chiedere a Padre Pio quali erano gli ingredienti giusti per poter creare un ospedale, lui che ormai aveva creato la casa sollievo della sofferenza e lui che voleva farlo e voleva crearlo, poi accadrà tutto questo anche per Don Alberione. Sono i misteri che noi non conosciamo, non possiamo conoscerli, chissà forse un giorno Padre Pio ce li racconterà, onzi gli farò questa domanda e avremo modo anche di conoscere questa grande spiritualità e saremo contenti di vedere un giorno anche lo stesso Don Alberione accanto a Padre Pio Santo.